Adesso quando uno ci lascia, uno se ne va, si sente sempre dire adesso lassù giocherà pallone con Tizio Caio, adesso ultimamente il povero Vialli giocherà con Maradona, adesso ha raggiunto Paolo Rossi, giocheranno e poi tutti quelli che vanno lassù giocheranno. Guarda che è formidabile questa cosa, il Bologno dello Scudetto che sono morti tutti perché più di 70 anni avevano, non ci sono quasi più nessuno, adesso si ritroveranno in paradiso a giocare, quindi giocano, avevano 75 e giocano, quindi lassù, bisogna vedere anche lassù, deve essere un casino, ma in quanti giocano? Quando muore anche un chitarrista qualcosa, un musicista insegna agli angeli a suonare la chitarra, quindi ci sono gli angeli là che imparano a suonare la chitarra, questi angeli devono essere bravissimi perché musicisti ci sono da quando esiste il mondo e poi quanta gente c'è, voglio dire lassù, se giocano tutti poi, voglio dire, ci vorrà pur uno che coordina, ci sarà uno, cioè ci sarà uno che dice, occhio allora qui questi giocano di qua, questi giocano di là, perché sennò tutti insegnano la chitarra, tutti suonano, tutti insegnano agli angeli, tutti giocano, ma deve essere bellissimo comunque, deve essere comunque bellissimo, lassù, bisogna avere curiosità di capire com'è organizzato tutto lì, ecco.